È stata inaugurata questa mattina nell'area del Tribunale di Ravenna dove vi sono gli uffici della Procura una nuova Sala di Unione intitolata Cati Avversari. Due parole due, semplicemente per dire che abbiamo ritenuto, abbiamo parlato con il Presidente Girotta, per dare questo gesto simbolico per esprimere la gratitudine e il ricordo di una persona che ha lavorato brillantemente nella Procura della Repubblica, all'epoca della Procura circondariale. Una persona capace, corretta, precisa, professionalmente capace appunto come poche. E quindi credo che questo sia un gesto di gratitudine doveroso da parte nostra e vedo condiviso questo numero delle persone che oggi è presente e soprattutto per i familiari che appunto ci hanno fatto l'onore della loro presenza in questa iniziativa. Abbiamo venuto dedicare questa targa proprio per queste ragioni. Si tratta della targa della Sala di Unione della Procura che è stata di recente ristrutturata per consentire un utilizzo quanto più ampio e funzionale possibile. Cati Rassari è proprio passato gli ottimi vent'anni della sua vita al tribunale. È uno di quelle persone su cui l'ufficio si basava per la sua disponibilità, per la sua intelligenza, per la sua sensibilità umana, per la sua capacità di relazionarsi con tutti. Grazie a tutti.